Marciapiedi sconnessi, erba incolta e cumuli di rifiuti tra le siepi. Sono queste le condizioni di via Cesare Maccari a San Giorgio di Aciglia, dove i residenti chiedono interventi urgenti per porre fine al degrado. L'area, come credo si noti, sembra di stare in una giungla. Le persone anziane, le donne con le carrozzine o le donne con la spesa, che hanno anche tolto il mercato da qua vicino, sono costrette a camminare sulla strada invece che su marciapiede, perché marciapiede è impraticabile, veramente sembra di stare in una giungla. Oltretutto le strade non sono curate, per cui gli stessi pericoli che si incorrono sul marciapiede si incorrono nella strada. Credo che il Grassi ne sappia qualcosa di quanta gente va lì per contusioni, fratture o quant'altro dovute proprio all'incuria del quartiere, ma girando Roma credo che sia. un po' la stessa cosa, quindi andando a Ostia magari abbiamo visto che Ostia è un po' più curata, ma qui proprio siamo abbandonati da tutti, da Dio e dalle autorità competenti. Non ci si fa a camminare, è impossibile. che se gli anziani, i bambini, non si può, non si può, è capito. A me ci piace perché io sono venuto 56 anni fa, era un gioiello, questa via c'era dalla mattina alla sera uno scopino che ci potevi mangiare per terra. Adesso guardate voi. Purtroppo guardi in che condizioni stiamo, c'è i buchi, ci sono le strade, non si possono passare, il mercato che fa schifo. Veramente prima non era così, è un bel po' di tempo, non è che adesso. Reglamiamo ma non ci ascolta nessuno. La situazione è quella del degrado, è quella della sicurezza, della sicurezza che ieri è stato rapinato uno non vedente da una ragazzetta che ha seguito, uscendo dal bar, gli ha levato il portafoglio, poi gli ha buttato e gli ha levato i sorti praticamente. Per fortuna diciamo, però potrebbero succedere anche cose diverse perché uno non vedendo può cadere per terra questa situazione. I residenti del posto segnalano anche la presenza di topi e chiedono un'immediata derattizzazione della zona. Da San Giorgio di Acilia per Canale 10 Paolo Leone.